Sei nuovi appartamenti per altrettante famiglie faentine saranno pronti entro un anno in via Ponte Romano. Una risposta pubblica all'esigenza abitativa delle famiglie faentine. Interviene per conto del comune naturalmente. Si rifà praticamente interamente dopo essere stata demolita una palazzina che risale agli anni 50 perché ovviamente le tecniche costruttive degli anni 50 adesso sono abbondantemente superate e anche la distribuzione degli spazi, degli apportamenti erano troppi angusti. ACER fa questo intervento che è un intervento costoso. Aveva una base d'asta di un milione di euro, poi i risparmi ottenuti in fase di aggiudicazione consentiranno di spendere meno grazie ai finanziamenti della regione per il piano casa, grazie a vecchi residui di finanziamenti precedenti non spesi e grazie a una parte dei canoni pagati dagli inquilini di edilizia residenziale pubblica di Faenza. Ci vorrà un anno per realizzare questo intervento e alla fine ci sarà una nuova palazzina che esternamente avrà le stesse caratteristiche delle altre, ma internamente avrà comunque una distribuzione, una qualità, una efficienza energetica non paragonabile che sarà a disposizione delle famiglie dalla graduatoria del comune che avranno i requisiti per poter entrare. Grazie Grazie Grazie